Coraggio, è proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrare sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Trodice, molti uomini hanno vita di quieta disperazione, non vi rassegnate a questo, ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade.